In assessorato c'è una riunione importante che è ancora in corso e alla quale è presente per noi il nostro Luca Pompei, una riunione dell'unità di crisi che ha dovuto affrontare sia ovviamente il punto della situazione anche alla luce di questi ultimi dati, ma anche e soprattutto il momento del ritorno a scuola degli studenti, le modalità, i tamponi e quant'altro. Vediamo se in collegamento con noi in diretta Luca Pompei, eccoci. Buonasera Luca, ho detto bene, sei in assessorato alla Sanità Pescara, giusto? Esatto, la riunione è appena terminata, stanno cominciando a uscire i vari partecipanti di questa riunione dell'unità di crisi, da un momento all'altro dovrebbe uscire anche il Presidente Regione Marco Marsiglio, in qualche modo anche l'assessore regionale alla Sanità. Nicoletta Verì, dicevi molto bene tu in studio, è stata una riunione intanto per fare il punto della situazione alla luce di tutti questi contagi odierni, davvero tanti, oltre 5.000, oggi tra l'altro alto, purtroppo anche il numero dei decessi ben 6, ma si è parlato in particolar modo anche dello screening che dovrà partire, anzi in qualche modo è già partito nelle varie scuole abruzzesi, tra l'altro notizia di qualche minuto fa, sono già arrivate le prime convocazioni per il 10 mattina per gli studenti degli istituti superiori, in particolar modo al liceo Galilei, dove confluiranno anche gli alunni del liceo Marconi, almeno per quanto riguarda Pescara. Uno screening assolutamente necessario per una sorta di ripartenza in sicurezza della stagione scolastica e per evitare il ricorso alla DAD. Si era parlato anche di un ulteriore slittamento della riapertura dell'anno scolastico di ulteriori tre settimane, ma era soltanto in un'ipotesi. Questi tre i temi trattati, Marina e l'assessore regionale Nicoletta Veriei, alla quale chiediamo intanto come è andata questa riunione. Una riunione che ha messo l'accento su quelle che sono le problematiche inerenti a questo momento importante in cui abbiamo un'alta occupazione dei posti letto da parte degli ospedali e quindi abbiamo affrontato il problema dell'organizzazione degli ospedali secondo la rete Covid, rimodulando a seconda delle necessità e quindi dando la garanzia dell'assistenza a tutti i nostri assistiti. Abbiamo affrontato il problema della riapertura della scuola in sicurezza, per cui faremo del screening a tutti i ragazzi prima della riapertura della scuola perché la scuola sarà in presenza, apriremo il 10 così come stabilito dalla gabbina di regia nazionale, però faremo in modo che tutti i ragazzi su base volontaria, tutti gli scolari, possano fare lo screening proprio per ripartire in sicurezza. Ecco, alla luce di questi numeri l'Abruzzo sostanzialmente sarebbe di fatto in zona gialla. Detto questo, sul tema ad esempio degli screening ha fatto bene sottolineare su base volontaria perché era emersa la notizia che molti genitori non erano così propensi nel far fare i tamponi ai figli. Sì, è sempre su base volontaria. Lo screening avverrà nei giorni antecedenti al 10, su tutte, diciamo, a livello delle varie fasi nell'ambito dei cicli della scuola sia primaria che secondaria e soprattutto uno screening importante perché le ultime, diciamo, risposte che abbiamo avuto con gli antigenici si avvicinano molto poi a quelle che sono le risposte quei molecolari, quindi ci danno delle risposte in sicurezza e lavoriamo attraverso la prevenzione. Dunque Abruzzo in zona gialla? L'Abruzzo in zona gialla perché i tre indicatori che stabiliscono il cambio del colore purtroppo sono ormai, hanno raggiunto, abbiamo raggiunto quello che è questo livello di occupazione dei posti letto. La zona gialla in effetti non cambia molto, però è un'attenzione ancora di più perché come voi avete visto abbiamo avuto questo aumento esponenziale negli ultimi giorni e a questo è corrisposto anche un maggior numero di occupazioni dei posti letto. Purtroppo abbiamo evidenziato che il 70% di questi posti letto è occupato dalle persone non vaccinate. Grazie, grazie Assessore, lo lasciamo agli altri colleghi.